Quanto prenderò di pensione è la domanda che ogni lavoratore si pone nel corso della propria carriera. Allora, per rispondere, l'Inps ha deciso di dare il via all'operazione La Mia Pensione. Da questa settimana, infatti, 5 milioni e mezzo di italiani riceveranno la cosiddetta busta arancione, ovvero la simulazione relativa all'importo dell'assegno che percepiranno finita la carriera lavorativa. I primi a entrare in possesso del documento dell'Inps saranno i lavoratori dipendenti, quindi gli autonomi, solo dal 2016, sarà la volta dei dipendenti statali. Ad oggi è del tutto utopico fare proiezioni su quanto prenderemo di pensione, ma qualche previsione è pur lecito farla. Anche se non a tutti farà piacere sapere il risultato. Possiamo ad esempio immaginare, lo ha fatto in questi giorni il quotidiano libero, quanto percepirà un lavoratore di 40 anni che abbia cominciato a versare i contributi a 23 anni. Bene, si salvano solo i dipendenti privati e gli statali, visto che i tassi di sostituzione, ossia il rapporto percentuale tra l'ultimo stipendio e la pensione, arrivano in questi due casi anche all'89%. A piangere sono soprattutto i lavoratori autonomi e i professionisti, che percepiranno fra il 28 e il 65% dell'ultimo stipendio. Grazie a tutti.